amiche amici ben ritrovati puntata numero uno della seconda stagione di only in futsal sul super j sul nostro canale 16 del digitale terrestre ci eravamo lasciati lo scorso la scorsa stagione sportiva con tanto entusiasmo perché è stata è stato un anno zero possiamo dire molto particolare l'anno appunto del battesimo del calcio al 5 del futsal sulla nostra emittente sul super j però è stato un anno importante particolare cui sia noi che abbiamo dato tanto al calcio al 5 ma il calcio al 5 ovviamente ci ha dato tanto anche noi la buona serata vi arriva da parte mia qui nei nostri studi della sede adriatica di giuliano di super j vi arriva soprattutto dalla regia sempre capitanata da pietro baldassare e come prima puntata come lo scorso anno non ci poteva essere ovviamente il padrone di casa del calcio al 5 in abruzzo del benvenuto il ben ritrovato soprattutto al presidentissimo salvatore vittorio possiamo dire presidente riconfermato numero uno il calcio al 5 in abruzzo anche se c'è una piccolissima novità da poco vicepresidente vicario fcclnd abruzzo buonasera presidente buonasera a tutti ben rivisti si è sottolineato bene è una ripartenza una ripartenza importante e con delle soddisfazioni personali ma io credo che l'orgoglio è quello di tutta la disciplina del calcio al 5 ringrazio il presidente concezio memmo e tutto il direttivo del comitato regionale elenio di abruzzo per aver riposto in me quella fiducia per la carica di vicepresidente del comitato regionale abruzzo è un grande onore ma come sappiamo dietro dietro grandi onori ci sono delle grandi responsabilità è un impegno che che affronto con serenità e sempre con quello spirito di servizio nei confronti delle società del calcio abruzzese a prescindere della disciplina che loro sbocco presente torniamo un po indietro perché ci eravamo lasciati sul finale ecco della scorsa stagione sportiva salutando un po tutte le squadre sia ovviamente chi ha potuto sorridere verso la fine della stagione sportiva c'è chi ovviamente ha pianto il bello dello sport intanto che stagione è stata quella 23 24 ma ogni stagione ha le sue caratteristiche le sue emozioni l'anno scorso è stata una stagione sportiva che ha messo in evidenza un grande valore tecnico che ha caratterizzato non solo la serie c1 ma tutte le altre categorie la serie c2 e con molto piacere l'ho riscontrata anche nei campionati di serie d non possiamo divendicare la la nostra serie c femminile la quale oltre aver data una promozione diretta e faccio i complimenti alle società che sono state promosse in nazionale di affrontare un campionato importante di portare alto il nome del comitato regionale abruzzo e inoltre una squadra che testimonia che il valore femminile abruzzese è un valore importante e che il pescara 1927 che vince le fasi dei playoff e conquista la meritata serie della serie b del calcio a 5 femminile in bocca al lupo sia al noracalcio in bocca al lupo a tutte le nostre società all'iscianiteramo per quanto riguarda la serie c1 e auguro a tutte le società abruzzesi dalla serie b alla serie a2 la serie a2 delitte e la serie a e la serie b del femminile un campionato ricco di soddisfazione e con l'augurio di riportare qualche trofeo che non brutto che ci vuole sicuro presidente prima di andare a vedere anche qualche contributo dalla regia poi andremo a vedere nella seconda parte le grafiche inerenti prossimi turni perché ricordiamo questo weekend stiamo ai nostri di partenza prima giornata c1 si giocherà la prima giornata anche della serie c femminile poi parleremo anche un po della della coppa della coppa italia perché quest'anno cambierà anche il format mi permetto di dire presidente molto intrigante quest'anno la il format della coppa italia di c1 perché si torna possiamo dire alle final four eccole alle semifinali si torna di fatto alle final four sì quindi l'abbiamo strutturata in con la formula delle final four quindi porteremo per la c1 maschile la c2 maschile e la serie c femminile la formula delle final four semifinale e finale porteremo tutte le altre finali a partire dalla serie d dai campionati under 15 17 19 e riporteremo anche l'under 15 femminile e è stata questa esigenza è stata dettata sicuramente il primo aspetto per arricchire dal punto di vista agonistico la competizione e dettata anche dallo spazio che abbiamo che abbiamo disponibile in quanto quest'anno abbiamo due giorni in meno su cui sviluppare tutto si giocherà a Montesilvano così lo deve sì ormai è una tradizione ben consolidata che è quello del pala roma ringrazio per questo sia il gestore Luca Copparoni e sia il comune di Montesilvano che ha sempre messo in evidenza quello spirito di sacrificio e di disponibilità nei confronti della Lega Nazionale di Lettanti nei confronti della disciplina del calcio a 5 e soprattutto perché il pala roma è il tempio per quanto riguarda la nostra disciplina bellissimo impianto bellissimo 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 impianto presidente ci andiamo a vedere già il primo contributo dalla regia ci andiamo a sentire le prime parole durante la presentazione dei calendari di C2 C femminile del presidente Concezio Memmo e di Laura Tinari e poi torniamo torniamo in studio sicuramente sarà vincente le nostre società si sono preparate al meglio per affrontare questi campionati e sono convinto che come sempre daranno tutte le energie che hanno le spenderanno secondo me e spero in campo così come oggi dirò sta per iniziare la presentazione dei calendari è fondamentale che ci sia rispetto, reciprocità e fair play sono i tre argomenti che tratterò oggi perché il calcio a 5 ci deve far crescere soprattutto nell'amicizia, nello sport, nel confronto quindi questi saranno i temi che butteremo oggi chiaramente in campo e auguro a tutte le società un bocca al lupo per la stagione che preferiscono il calcio femminile abruzzese è fatto di due anime, da un lato c'è il calcio a 11 e dall'altro c'è il calcio a 5 è un movimento comunque in crescita sia in numero di squadre sia in numero di tesserate e questo è il frutto di un'intensa attività che parte dall'attività giovanile con progetti, con le scuole stiamo investendo molto su questo settore il Comitato Abruzzo sta investendo risorse economiche ma anche tante risorse umane, capacità e professionalità sul femminile e siamo contenti che il nostro movimento regionale se ne sta accorgendo e sta recependo soprattutto abbiamo sempre più società che vengono dal maschile che investono sul femminile e scendono infatti il numero delle società pure, soprattutto nel calcio a 11 e questo per noi è un grande motivo di soddisfazione Presidente, allora abbiamo sentito intanto Concezio Memmo che ovviamente ha dato il via a tutte le calendari delle nuove stagioni sportive, mi permetto di ripartire da quello che è stato fatto quest'estate perché non si è fermata l'attività, l'attività di tutte le società, l'attività a livello del Comitato soprattutto anche con incontri con la classe arbitrale Sì sì, per il Comitato, per noi federale la stagione sportiva non si chiude mai di fatto terminiamo il 30 giugno ma in realtà dal primo luglio già siamo in corsa per riorganizzare la stagione che sta subentrando è iniziata la grande, una stagione caratterizzata da un'assemblea elettiva che ci ha visto di nuovo confermare quella fiducia da parte di tutte le società abruzzesi nei confronti delle persone, dei consiglieri, del Presidente di questo Comitato che io definisco dei grandi professionisti che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità nei confronti di tutte le società perché il nostro spirito è quello di puntare sugli aspetti principali che sono la visibilità e per questo approfitto e ringrazio l'emittente Super J per il grande lavoro che sta facendo in particolar modo, permettetemi, nei confronti della disciplina del calcio a 5 e questo è anche merito tuo, permettimi si è data una visibilità che le nostre società hanno apprezzato un parlare a 360 gradi, quindi senza fare distinzioni tra le varie categorie e soprattutto puntando un aspetto sul settore giovanile ci avete seguito nel torneo delle regioni, ci ristiamo strutturando e abbiamo approntato ormai tutti i campionati siamo in astri di partenza per quanto riguarda i campionati del calcio a 5 e nel giro di qualche settimana partirà la settimana prossima C1, C2, C femminile partirà la Coppa del 19 della Serie D e nel mese di novembre partirà la Coppa dell'Under 15, 17-19 i relativi campionati Presidente, posso dire che è l'unico piccolo neo che c'è stato durante l'estate che alcune società si sono, anche storiche, si sono tirate indietro? Allora, si registra una grande crescita lo dicono i numeri Ovviamente queste squadre sono state poi sostituite però ecco, permetto di dire alcune società L'abbiamo registrato, allora per quanto riguarda la Serie C1 è una struttura ormai stabile, via dicendo vi è stata una fusione da parte della società e per quanto riguarda la Serie C2 abbiamo registrato là qualche defezione abbiamo perso una società e tre squadre e abbiamo avuto una grandissima crescita e una risposta importante da parte della Serie D e credo che questo sia... Sì, la Serie D forse è il campionato che è salito di più, Presidente Sì, perché il campionato di C1 è un campionato volutamente strutturato a 14 squadre A 14 Io amo il campionato a 16 squadre, come ti ho sempre detto però per gli impegni che abbiamo nel 2 maggio 2025 noi dobbiamo consegnare la vincente della squadra dei playoff al nazionale così che partono i playoff Strutturare un campionato a 16 squadre significa sviluppare 30 giornati quindi vuol dire che nel mese di settembre dovremmo partire già col campionato quindi metteremo le nostre società in una condizione di disagio perché nel mese di agosto dovrebbero sviluppare ma nel mese di agosto dovrebbero sviluppare la preparazione atletica quindi andiamo sul format di 14 perché si parte dopo il ferragosto con la preparazione atletica C2, due gironi da 13 C2, l'obiettivo era quello di portare la C2 a 14 squadre non ci siamo riusciti quest'anno siamo riusciti a risviluppare i due campionati a 11 e 11 squadre con la capacità di riportare l'anno prossimo la C2 a 14 squadre Poi vedremo tanto le grafiche, Presidente, anche per la prima giornata perché ci sono già partite importanti nel girone A soprattutto della C2 invece serie C femminile serie C femminile c'è stata sicuramente una crescita abbiamo avuto, consideriamo che abbiamo promosso due squadre nel nazionale per quanto riguarda il campionato si registra a 13 squadre abbiamo avuto non c'è più il motorio questo è un grande peccato ho parlato con il Presidente è una società storica è una società che spiace perderla perché aveva espresso in questi lunghi anni un buon calcio femminile e come sottolineava prima il Vice Presidente Vicario dobbiamo crescere e puntare sempre di più sull'attività giovanile soprattutto nel mondo femminile ci stiamo lavorando abbiamo registrato il frutto di quella che è stata una lungimiranza intrapresa l'anno scorso e l'anno scorso abbiamo strutturato un campionato di Under 15 a 9 squadre quest'anno riusciamo a portare il campionato a 12 squadre quindi vuol dire che un grazie va alle nostre società che hanno capito in maniera importante che solo investendo sui settori giovanili si assicura una continuità e si dà valore ai sacrifici che ogni anno buttano per questo sport che noi amiamo che è il calcio a 5 abruzzese Presidente rimaniamo sulla situazione relativa alla C2 e alla C femminile perché ci andiamo a vedere il secondo contributo dalla regia ma sono due interviste con il padrone dell'atletico Vittorito il Presidente Marrama e la Presidentessa possiamo dire il numero uno del Martinsicuro che possiamo dire ha inglobato ecco il Colonnella e torniamo in studio Devo ringraziare Fabio Di Felice che ci ha dato l'onore di rappresentare queste ragazze che giocano un calcio veramente bello per me è una grande emozione ho parlato un po' con le ragazze e la cosa più bella è stata la loro passione il capire la loro passione che mettono in questo calcio in questo sport quindi speriamo di creare un nuovo progetto speriamo che tante ragazzine possano cogliere l'opportunità di iniziare a giocare a questo splendido sport Sicuramente è stata una grandissima stagione una bella soddisfazione abbiamo raggiunto due risultati inimmaginabili sia in Coppa che in campionato con i play-off e in Coppa con le Final Four quest'anno abbiamo rivoluzionato la squadra quindi abbiamo tantissimi inserimenti nuovi siamo ansiosi e felici di metterci di nuovo in gioco e fare in modo di rimetterci a confronto con le altre società iniziamo anticipo già la domanda che mi stavi per fare sulle prime due giornate iniziamo con due società che l'anno scorso non facevano parte del nostro campionato quindi è una bella sfida per scoprire le loro realtà e confrontarci con due nuove arrivate nel nostro Girono Girono è tosto però beh, le uniche due che non conosciamo bene sono quelle che affronteremo nelle prime due giornate le altre sono tutte società amiche e nemiche nel modo corretto sportivamente parlando quindi non vediamo l'ora di entrare in campo ma sono un marrama presidente che è sempre possiamo dire anche ordinato anche nelle battute però ha detto una cosa giustissima ecco, società, società amiche nemiche sportivamente parlando però sono tutte amiche sì, noi portiamo avanti quel verbo che è giusto esprimere quell'agonismo importante in campo perché ci stiamo giocando ciò che la società si è prefissata di raggiungere in questa stagione sportiva mai dimenticando il rispetto dell'avversario il rispetto della classe arbitrale il rispetto di tutto ciò che gira intorno allo sport perché noi siamo per il divertimento siamo per il giocare e io credo che con il divertimento riusciamo a colorare con un tono diverso la nostra passione per il calcio Presidente, ovviamente la situazione è relativa anche agli impianti sportivi è un argomento di interesse Presidente, già ride ovviamente oggi è come puntata zero ne parleremo poco poi avremo anche nelle altre puntate sicuramente anche con gli altri ospiti di occasione per parlarne siccome ci avviciniamo alla prima parte al termine della prima parte di OnlyFuzz al Presidente le situazioni di impianti sportivi come siamo messi non solo in provincia di Terram ma in tutto il territorio abruzzese Allora l'esempio è sottolineato questo aspetto l'hai messo in luce in maniera corretta e puntuale nella stagione scorsa certamente non abbiamo e le nostre amministrazioni non hanno la bacchetta magica è una problematica che va che stiamo affrontando e va risolta nel tempo siamo riusciti a trovare tu sai che il Comitato regionale Abruzzo ha espressamente dedicato per quanto riguarda l'impiantistica sia una commissione e abbiamo il nostro fiduciario dei campi che saluta il consigliere Levantino che con una passione innata è riuscito a riportare a disposizione dello sport del calcio abruzzese circa 60-70 nuovi impianti e non sono poco anche per quanto riguarda la disciplina siamo riusciti a omologare e a ridare a disposizione quest'anno nuove impianti quindi non è poco soprattutto nuove impianti riferiti a tutto il territorio regionale abruzzese e sicuramente c'è tanto da lavorare il Presidente Memmo con il Consiglio regionale e con i vari assessori ha intrapreso un discorso per quanto riguarda dei contributi per ottimizzare al masso e rendere sicuri i nostri campi di gioco sia per quanto riguarda il calcio che per quanto riguarda il calciacino si sta facendo un lavoro importante che questo comitato non mette in secondo piano e rientra nel nostro programma e sicuramente con il tempo riusciremo a centrare gli obiettivi prefissati fondamentale per gli impianti sportivi sicuramente per la disciplina ricordiamo fondamentale gli impianti sportivi sono fondamentali per lo sport a presente che si possa chiamare calcio calciacinque volley e via dicendo sono strutture dove i nostri giovani devono sapersi divertire e noi dobbiamo avere la capacità di offrirgli degli spazi doni su quale devono nascere i futuri campioni che caratterizzeranno il gioco del calcio fra i prossimi anni assolutamente argomento impianti sportivi che sicuramente nelle puntate successive approfondiremo anche con gli altri ospiti soprattutto con le società sportive siamo giunti al termine di questa prima parte di Only Futsal non cambiate canale ci vediamo tra poco seconda parte di Only Futsal con me il presidente Salvatore Vittorio abbiamo parlato un po' in questa prima parte presidente di quello che è stata ovviamente la stagione sportiva 23-24 anche in tutte le categorie dalla C1 alla Serie D passando per la femminile e la C2 abbiamo parlato anche della situazione relativa agli impianti sportivi ci andiamo a vedere già le prime grafiche così anche per chi ci segue da casa mettiamo un po' di pepe ecco per questo prossimo weekend poi avremo anche un altro contributo dalla regia chiedo a Pietro alla regia di mettere in sovraimpressione la grafica del prossimo turno di C1 maschile andiamo a vedere anche quali sfide più interessanti perché ricordiamo che ci saranno ci sono già squadre importanti che hanno allestito roster soprattutto importanti in questa stagione estiva Fuzz al Vasto Atria Tim La Fenice Minerva già qui presidente è una bella partita sì il Minerva sta dimostrando delle caratteristiche importanti in questo campionato si qualifica nel Final Four della Coppa Italia Fatto bene a ricordarmi le quattro semifinaliste di Coppa Italia Super Ecum Ripa Teatina Super Ecum Minerva e Celano Sport Center Celano si ritroveranno a partire dal 2 gennaio 2025 a contentersi la Coppa Italia regionale Monte Silvano Ripa Teatina presidente Ripa Teatina che ha fatto una squadra importante anche in Ripa ha tenuto possiamo dire lo zoccolo duro io credo che questo sia un campionato brillante emozionante e interessante con tante sorprese SCT Sport San Buceto Calcio 5 Academy L'Aquila ricordiamo a SGT che ha dominato il giro NEA presidente lo scorso anno di C2 ne ho promossa ne ho promossa come sono Scanno Atletico Silvi anche qui bella partita presidente Sì 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 soprattutto un livello tecnico importante la società dello Scanno fa il passaggio nella massima serie del calcio a 5 si è ristrutturata per affrontare il campionato investendo sui giovani investendo su tanti ragazzi giovani come d'altronde l'Atletico Silvi sia le squadre che per quest'anno affrontano per la prima volta il campionato di Serie C1 che le altre compagini che già hanno esperienze importanti in questo campionato nella fase della Coppa Italia hanno dimostrato un gioco interessante un valore tecnico importante quindi sono orgoglioso per questo aspetto Chiedo a Pietro di rimettere in superimpressione perché mancano le ultime due partite SportsCenter Celano Virtus San Vincenzo e Super Ecum contro l'Aquila City Presidente possiamo dire che Celano e Super Ecum sono le due squadre da battere? Almeno sulla carta Sulla carta potrebbero essere però ci sono tante altre scoperte che ho visto in Coppa quindi sì loro hanno sicuramente requisiti hanno strutturato una squadra per poter sicuramente puntare in alto in questa stagione sportiva Poi sbaglieremo sicuramente ma sulla ecco i pronostici d'inizio anno sono belli Io non mi permetto mai di fare i pronostici perché ranne la stagione scorsa che è stata quella quella dove si poteva avere una 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 prospettiva dall'inizio del campionato sulla società dell'Isciani Teramo che poi è stato così la stagione ha premiato il Isciani per aver strutturato una squadra che ha saputo dare continuità durante il settimana prossima anche a chi ci segue da casa andremo ad approfondire un po' più anche il campionato di Serie B perché ricordiamo che inizierà non questo weekend ma il prossimo ecco quindi sabato 12 ottobre comincerà il campionato di Serie B nazionale in cui partecipano sia l'Isciani che il Città di Chieti ecco quindi sarà un campionato anche eccolo qui abbiamo già la grazia grazie a Pietro e Real Dem ecco retrocessa Ancona Città di Chieti Fano Corrinaldo Lisciani Iesi che esordirà all'Acqua Viva Nuova Juventina Cus Macerata Re Canati Faenza Riposa Real Dem qui un girone importante presidente si 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 sono squadre storiche anche del campionato di calcio a 5 ricordiamo che il girone sono state raggruppate tutte le tre società abruzzesi con le marchigiane e c'è una romagnola è un campionato dove la divisione giovedì ha fatto uscire il meccanismo dei playoff e dei play out per quanto riguarda i play out saranno interessate due retrocessioni per ogni girone retrocederà una retrocessione diretta e l'altra è play out l'altra tra la penultima e la terza si affronteranno nel play out e chi perde si ripetiamo la prima sale matematicamente in a due e le altre vanno a fare ovviamente i play off chiedo a Pietro di andarci a vedere l'ultimo contributo che è l'intervista mister di Muzio del Montesilvano che ci parla sia della C1 maschile ma anche della C femminile l'emozione è tanta c'è sempre voglia c'è tanta voglia di ripartire quindi si riparte sempre con tanta emozione poi una bellissima riunione una bella partecipazione di tutte le società una bella location e poi ci sono sempre diciamo gli obiettivi individuali di ogni squadra per cui si riparte con la voglia di fare bene con la voglia di creare comunque entusiasmo un bel gruppo e poi anche di provare a vincere un po' di gare riparte anche la stagione per quanto riguarda la C1 maschile l'anno scorso non è stata quasi una stagione fortunata ripartite però nuovamente dalla C1 intanto che campionato sarà? Sì abbiamo avuto la fortuna di essere riprescati siamo ancora in C1 sarà un campionato secondo me ancora di livello forse più elevato sono sempre quelle squadre tra cui Super Ecum siamo qui la voglio nominare che comunque lotteranno probabilmente per la vittoria del campionato quindi sicuramente ci sono 13 squadre di livello alto noi per i nostri obiettivi abbiamo rinnovato tanto abbiamo una squadra molto giovane però di ragazzi di valore molti venivano e già erano anche in rappresentativa per cui speriamo di fare un campionato un po' più tranquillo di salvarci poi magari perché no ci potremmo togliere anche altre soddisfazioni non mettiamo un freno sicuramente mi piace molto lavorare con i giovani quest'anno quindi sono molto motivato ancora di più perché è un progetto che mi attira tanto avere squadra 8-9 ragazzi dal 2005 in giù quindi obiettivo nell'obiettivo presidente mister di muzio che è retrocesso l'anno scorso con il montesilvano squadra ripescata il presidentissimo cordoma squadra giovane però come ha detto mister mister di muzio sì sì hanno investito sui giovani lo spirito che noi portiamo avanti da tempo per il quale hanno risposto tantissime società basti guardare la maggior parte delle società di C1 hanno un capitale giovanile importante assolutamente tant'è che l'anno scorso abbiamo trovato la forza delle rappresentative è stata trovata gran parte dal campionato di Serie C1 è lo spirito giusto è lo spirito per valorizzare i nostri giovani per dargli la possibilità di viversi delle esperienze e delle opportunità importanti sì sì ma l'anno scorso abbiamo visto giocate importanti anche dai più piccoli presidente mi permetto di dire perché ci sono state alcune partite come la Coppa Italia senza dimenticare il torneo delle regioni in cui i nostri i nostri ragazzi sono ben comportati io dico sempre l'Abruzzo l'Abruzzo per come è un quartiere rispetto a tante altre regioni quindi io dico che ha tanta qualità la qualità la si fa anche con i numeri a disposizione e noi per i numeri che abbiamo nel settore giovanile esprimiamo in ogni disciplina sia nel calcio che nel calcio femminile che nel calcio a 5 esprimiamo tanta qualità e questo va dato merito alle nostre società che investono nel patrimonio giovanile e va dato merito ai nostri tecnici che stanno portando avanti dei futuri campioncini altre grafiche il primo turno la prima giornata del campionato di C2 maschile girone A e poi andiamo a vedere anche il girone B ricordiamo due gironi da 13 squadre ovviamente c'è un turno di riposo ecco il girone A Bruno Compagno Cus L'Aquila Montesilvano Orriano Avezzano Calcetta Avezzano Fuzza Alcerchio Castelvecchio Briganti Astra Teatro Eurocalcetto Atletico Vittorito Riposa l'Atletico Teramo qui Presidente mi permetto di dire ci sono alcune squadre che da tenere d'occhio una secondo me è quella che riposa perché l'Atletico Teramo se ne parla già un gran bene Bruno Compagno che arriva dopo la scottatura possiamo dire della scorsa stagione sicuramente si vorrà si vorrà vorrà ripetere il campionato importante dello scorso dello scorso anno poi c'è anche qualche squadra che potrebbe sorprendere ecco c'è lo stesso Rione Avezzano assolutamente è un girone molto competitivo il girone A ti correggo sono due gironi mi permetto scusami no 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 assolutamente sono due gironi da 11 squadre da 11 squadre abbiamo abbiamo intenzione di portarlo a 13 squadre ne stavamo parlando prima nella stagione con la stagione prossima eh sì con la stagione prossima è un girone molto interessante che ci darà ci darà delle belle sorprese io credo eh sì Orione Avezzano che ricordiamo squadra retrocesse dalla C1 maschile andiamo a vedere anche il girone il girone B dopo aver letto appunto il primo turno del girone a Rocca Scalegna Gioventù Biancorossa Casalbordino Paglieta Casoli Migliani San Salvo Vigor Lanciano Val di Sangro Sporti Intollo e Saulon Civitella qui anche c'è qualche neopromossa Casalbordino Saulon Civitella che ha fatto un campionato importante in Serie D l'anno scorso sì Presidente tra l'altro abbiamo avuto anche ospite qui alcuni del Civitella ecco anche qui un bel girone no no ti ripeto ogni gironi ogni campionato è disciplinato sicuramente da un valore tecnico importante e lo ritroveremo anche nei gironi della Serie D quindi vuol dire che vabbè l'Abruzza ha sempre parlato in maniera importante del futsal e sempre più si sta alzando il livello tecnico che le nostre società esprimono assolutamente assolutamente ricordiamo la C2 inizierà non questo weekend ma il 12 il 12 ottobre la prima giornata questo weekend iniziano C1 è Serie C femminile infatti il turno della Serie C femminile lo andiamo a vedere proprio ora anche con l'aiuto della grafica in sovra in pressione eccolo qui 6 ottobre quindi inizia questo weekend inizierà questa domenica Montesilvano Sivellegend Atletico Santeusanio La Fenici Centro Storico Montesilvano Loretta Prutino Celano Mediolano Martinsicuro Casoli Calci a 5 Sulmona Contro Amiternina Scoppito presente due tre battute prima di lasciarti la parola allora Casoli intanto che ha fatto secondo me una discreta squadra Casoli Calci a 5 si è rinvigorita dopo un discreto campionato dello scorso anno La Fenice Centro Storico Montesilvano è secondo me una bella partita è Mediolano Martinsicuro come dicevamo prima che ha allestito anche un roster importante Sì è un campionato quest'anno dove si è livellato in maniera più ottimale l'anno scorso avevamo un campionato caratterizzato da due compagini importanti tre o quattro società che esprimevano sicuramente un valore diverso in appartenenza alla Serie C le altre le altre società alle quali faccio i complimenti perché hanno saputo investire nella disciplina femminile hanno investito dei giovani se vedi le società Rocca Scalegna ha lavorato e ha puntato soprattutto nell'aspetto giovanile anche il Sulmona anche il Sulmona quest'anno credo che sarà un campionato dove mette sempre in evidenza due valori sportivi diversi però ci sono delle società che l'anno scorso sono partite che quest'anno ci riferiranno un buon campionato assolutamente ricordiamo la prima giornata appunto questo weekend andiamo a vedere grafica inerente la Serie D è l'Under 19 perché inizierà anche a breve il campionato della Serie D la prima giornata che ci sarà non ora ma qui vediamo la Coppa Abruzzo e già c'è come abbiamo anticipato prima Presidente Final Four dal 2 al 6 gennaio come abbiamo detto prima anche qui porteremo solo la finale sì qui solo la finale come lo scorso anno Serie D Presidente l'abbiamo detto prima ci sono squadre che si sono si sono organizzate anche a livello societario per sperare di fare qualcosa in più l'anno prossimo sì sì si nota una crescita proprio nella struttura delle società che non è solo un'espressione rivolta ai calciatori ma proprio nella scelta dei dirigenti accompagnatori nella scelta dei miss è una una Serie D che che ha dimostrato e dimostrerà con la partenza del campionato un'espressione importante per il futsal abruzzese è un'espressione fatta sicuramente di crescita non solo numerica ma soprattutto di qualità partiamo con la Coppa dove la prima giornata interessiamo tutti i tre gironi abbiamo quest'anno abbiamo registrato una crescita importante nella Serie D che significa che questa disciplina è una disciplina viva che è lo testimonia ben 38 squadre nel campionato di Serie D dobbiamo saper investire sempre in maniera più importante nel territorio aquilano quando dico territorio aquilano alludo alla Valle Peligna alludo alla Marsica e all'Aquila stessa c'è stata una una risposta importante nel nell'Alto Chietino nel Lancianese nella zona del Vastese è una risposta sulla quale avevo scommesso tanto per questo ringrazio tutti i presidenti dei comitati provinciali e tutti i delegati del Calciacinque che operano sui propri comitati per aver avuto la capacità di riuscire a strutturare dei campionati provinciali così importanti Teramo continua a crescere registra 10 società e se lo rapportiamo al dato della stagione 22-23 è stata una crescita esponenziale 22-23 su Teramo nella Serie D c'erano tre società ha avuto promozioni in C2 e oggi porta 10 nuove società in Serie D quindi questo è frutto di un grande lavoro che sicuramente dobbiamo dare merito ai presidenti dei nostri comitati provinciali ci avviciniamo al termine della trasmissione ma abbiamo da vedere l'ultima grafica quella relativa all'Under 19 che è stata svelata pochi giorni fa appunto eccola qui Coppa Abruzzo dell'Under 19 qui sono quattro gironi presidente anche qui squadre importanti per quanto riguarda l'Under 19 la finalissima appunto se giocherà ricordiamo sempre dal 2 in quel periodo il 2 6 gennaio 2025 sempre al Palaroma di Montesilvano presidente ci avviciniamo al termine di questa puntata 1 dell'anno 2 di Only Futsal prima di chiudere sarà contento il presidente Salvatore Vittorio a fine stagione in caso di la mia più grande soddisfazione è quella che e ringrazio colgo l'occasione per ringraziare tutti i presidenti delle società per i sacrifici che fanno non dimentichiamoci che usciamo da tempi difficili e questo è il primo anno dove riusciamo a riaffermare con forza la voglia di giocare quindi la mia soddisfazione è quello che tutto il calcio regionale riesca a portare fortemente quel valore che noi amiamo che è quello del far play ci giochiamo in campo la gara però terminata terminata la gara io credo che dobbiamo saper portare avanti dei valori di rispetto di rispetto di tutto ciò che circonda il mondo del calcio io credo io tengo tantissimo un premio che è il premio disciplina e faccio i complimenti a quelle società che investono nel comportamentale dei nostri giovani quindi faccio un in bocca al lupo importante a tutto il calcio regionale abruzzese faccio un in bocca al lupo alla classe arbitrale abruzzese e buon campionato e vive il futsal abruzzese a questo punto ebbè come prima puntata Presidente i migliori auguri a tutte le società sportive per la stagione che inizierà a breve parliamo di campionato le coppie già per alcune campioni sono già per alcune categorie sono già iniziati in bocca al lupo a tutte le società abruzzesi sia che giocheranno nei campionati appunto regionali ma sia che giocheranno nei campionati appunto nazionali maschile femminile e anche ovviamente tutto il mondo giovanile grazie al Presidente Salvatore Vittorio un saluto a voi e grazie per l'invito ci vediamo ci rivedremo soprattutto nelle prossime occasioni grazie alla regia coordinata sempre da Pietro Baldassarre la prima puntata di Holy Futsal termina qui ma ci vediamo sicuramente martedì prossimo come ogni martedì su Super G alle ore 22 e 3 e vive il futsal buonasera a tutti grazie a tutti